Grazie a chi ci sta seguendo in diretta sulla radio, in diretta streaming, in diretta su Rai News 24. Fate sentire che non ci sta più uno spillo in questa sala, anche se è domenica mattina. E anche se stasera, anzi oggi pomeriggio c'è Roma Juve, quindi si riesce a parlare di Europa e di lavoro nonostante il calcio, visto che in Italia per qualcuno conta più la curva che la curva della disoccupazione, e lo dico da tifoso. Sono qua per un gemellaggio morale perché non ho ancora capito se è peggio Pisapia o se è peggio Marino. E quindi al di là della diverazione dell'euro spero che sia Milano che Roma si liberino da due dei peggiori sindaci che la storia di queste due belle e povere città si ricordino. Di isola pedonale, in isola pedonale, di Camporom in Camporom, stanno divettando altro le nostre città. E quindi mal di questo ci occuperemo dal 26 di maggio. Parlo per pochi minuti e parlo come se fossi a Treviso o a Milano. Non mi piacciono quelli che se fanno l'intervento a Cuneo parlano da cunesi, e se fanno l'intervento a Catania parlano da catanesi. Questa è una battaglia che riguarda tutti, da nord a sud. Perché o ne usciamo tutti o ci rimaniamo sotto tutti. Sul dopo la sfida del professor Bagnai è affascinante. Io sono autonomista, federalista, indipendentista. Io sono entrato in Lega perché adoro le diversità. Mi terrorizza quello che è unico, è grande. La moneta unica, il pensiero unico, il cibo unico, il libro unico, la televisione unica, il supermercato unico. Quello che secondo me è più pericoloso dell'Europa è questo. Grande e bello, tutti a fare la stessa cosa e a pensare la stessa cosa. Io mi sono riletto quest'estate Giorgio Orwell, che dovrebbe essere lettura obbligatoria in tutte le scuole elementari, medie e superiori. Certo per la professoressa che entra in classe con l'unità sotto il braccio è difficile insegnare la libertà di pensiero ai suoi ragazzi. Quando Orwell diceva che nel momento dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario, è quello che stiamo vivendo oggi. Noi diciamo delle cose normali e la gente applaude. E' brutto eh, quando tu dici questa maglietta è blu e la scritta è gialla. Di là si alza uno del PD e dice no, quella maglietta è evidentemente rossa. Ma come evidentemente rossa? E' blu. A me sembra blu. E io dico no, è blu, sono convinto che sia blu, sono convinto che l'euro sia una cazzata, sia una moneta criminale. Ma io dico la verità, dico l'ovvio, dico quello che... no, c'è quello che dice no, perché non si può. Pare blu, ma se guardi bene non è blu, no è blu. E quindi ero l'unico a dire che era blu. E io vado avanti a dire, perdi voti, guadagni voti, qualche giornalista adesso dice ma fate questa battaglia per prendere voti. A parte il fatto che un politico che fa le battaglie per perdere voti è un cretino. Però, se io però credo in una battaglia, vi faccio un esempio europeo. Quando ci fu la guerra in Serbia, erano altre elezioni europee, erano 15 anni fa. Chi ce lo fece fare come Lega di dire ai tempi? Occhio, perché le bombe umanitarie degli americani e di D'Alema non sono umanitarie. Noi perdemmo una marea di voti. Non so se vi ricordate, voi magari accendevate il telegiornale, perché poi ovviamente i telegiornali ti dicono la Lega difende gli assassini serbi. Ma io sono padre di famiglia, ti pare che io possa difendere un assassino. Semplicemente diciamo, occhio, non è il cattivo di là e il buono di là. Occhio che le bombe umanitarie, fra vent'anni, cambieranno semplicemente il nome e cognome del carnefice. E infatti oggi essere perseguitati in Serbia nell'ignoranza di tutta la classe giornalistica italiana. In Italia abbiamo i giornalisti più distratti, più beceri, tranne quelli che sono qua presenti in sala ovviamente. Quelli che sono fuori da questa sala sono il peggio del peggio. Perché mandassero due telecamere in Kosovo a vedere come vivono scortati adesso i cristiani da quella che è diventata una maggioranza violenta e arrogante come quella islamica in Kosovo, figlia delle bombe democratiche, e perdemmo una valanga di voti. Chi se ne frega, se credo in una battaglia, la battaglia la faccio. Ora io credo in qualche battaglia. Uno. Possiamo tornare a essere potenza mondiale. Sì. Con tutti i nostri difetti. Sì. La Lega è nata per combattere la casta e i falsi invalidi, e i falsi forestali. L'Italia è la patria del falso. Quindi il falso non ci piace e il falso va combattuto. Detto questo, siccome il falso c'era anche 12 anni fa, mio figlio che ha 11 anni e non ha ancora fatto la Bocconi, e spero che non faccia la Bocconi, però si rende conto che, se con tutti i falsi che ci sono adesso, che erano i falsi di 12 anni fa, 12 anni fa si stava in una certa maniera, e adesso si sta peggio, evidentemente c'è qualcosa, ci hanno rifilato una sola. Ci hanno tirato una fregatura. Quindi l'emergenza è spegnere l'incendio. Attualmente è in corso un incendio. Quindi quando mi rendo conto che c'è puzza di fumo e qualcosa sta bruciando, la prima cosa è correre all'estintore. Non ho tempo di andare in frigorifero a prendermi un chinotto. Prima spengo l'incendio. E poi litigo, è meglio il chinotto, la fanta o la spuma. Dopo, prima spengo l'incendio. E poi bevo il chinotto. Qua c'è tanta gente, ormai ci ho fatto il callo, in televisione tutti, da destra a sinistra, da Renzi a Berlusconi, a Grillo. Bisogna battere i pugni sul tavolo a Bruxelles. Votatemi, perché se mi votate, io vado a battere i pugni sul tavolo a Bruxelles. A Bruxelles non c'è più il tavolo. Si sono fottuti il tavolo. Se votate Lega, se votate Salvini, io non vado a Bruxelles a battere i pugni sul tavolo. Io vado a Bruxelles e mi riporto a casa il mio tavolo. Perché non ho da battere i pugni sul tavolo. Quello è il tavolo mio. Me lo riporto a casa. E poi a casa mia, che può essere Milano, Treviso, Catania o Roma, sul mio tavolo batto i pugni. Però in casa mia. Non devo fare mille chilometri per andare a battere i pugni sul tavolo dalla Merchelo, o da Van Rompuy, o da Juncker, o da Schulz. Voglio dire, mi riprendo il tavolo. E poi ne riparliamo. Hanno una paura fottuta. Perché tutti i sondaggi dicono che il 25 maggio cambia. Vi chiedo solo di parlare con chi il nemico nostro non sono i difensori dell'euro. I difensori dell'euro difendono le cause perse. Chi ci guarda in questo momento fa due conti. E fa due conti su quello che aveva risparmiato suo nonno e adesso sta mettendo le mani su quel conto per garantire la sussistenza a suo figlio. Quanti ragazzi di 30 anni non si stanno sposando? Perché vivono ancora dalla mamma e dal papà. Perché non hanno i soldi. E il mutuo. E non mi danno il mutuo. E ho un lavoro a tempo determinato. E non fanno figli. La cosa più grave. Quanti non stanno facendo figli perché noi non viviamo in un campo rom dove non si pongono i problemi. Tanto qualcuno ci pensa. Sarà politicamente scorretto da dire. Chi se ne frega. Io sono stato in un campo rom a Milano e c'era una signora... Abusivo, ovviamente. C'era una signora arrabbiata e fa Voi farete sgomberare questo campo rom e io ai miei cinque figli cosa do da mangiare? Pensarci un attimo prima? Quanti in questa sala vorrebbero fare due, tre, quattro, cinque, sei, diciotto figli? Ma si pongono il problema quanto mi costa l'asilo nido? Quanto costa il latte in polvere? E una vita a tempo determinato con i contratti a quattro euro all'ora rinnovati di tre mesi in tre mesi non ti permettono di pianificare il sesto, ma neanche il primo figlio. E poi c'è qualche fenomeno che dice c'è bisogno di immigrati perché gli italiani non fanno più figli. Se noi fossimo lasciati in grado di lavorare, di ragionare, di sorridere e di programmare io sono convinto che noi riempiamo di figli questo paese. E io la battaglia la sto facendo nel nome dei figli che non stanno nascendo per la crisi economica. Io voglio che questi figli nascano. Questi bimbi e queste bimbe devono nascere. E poi ci abbracciamo tutti bianchi, neri, rossi. Io ritengo che chi distingue nel 2014 in base al colore della pelle un essere umano è un cretino. Io l'essere umano lo distingo in base a quello che fa a quello che pensa a come ragiona. Certo, come diceva Monsignor Maggiolini grande vescovo di Como un uomo di chiesa con le palle un conto è la libertà di religione un conto è la libertà di invasione. Cioè nel nome della libertà di religione noi stiamo rischiando l'annientamento di una civiltà di una società, di una cultura. e questo è l'unicità che mi... Oggi è la festa della mamma. Auguri a tutte le mamme finché ci permettono di fare gli auguri alle mamme. Perché qualcuno vorrebbe fare gli auguri al genitore 2. Perché la mamma e il papà sono robe vecchie, superate. Non bisogna discriminare. La parola magica anzi la parola tragica tu discrimini. Tu discrimini. Fobia. È la xenofobia. È l'islamofobia. È l'omofobia. Quando c'è qualcuno che la pensa in maniera leggermente diversa è un fobico. Lui discrimina. Io a Milano non voglio la grande moschea. Perché? Non perché sono cattolico. Io vado a messa due volte all'anno. Poi mentre stazionerò in purgatorio per parecchio tempo. Però se a chiedermi la grande moschea è qualcuno che vuole il riconoscimento qua del matrimonio di rito islamico che prevede che l'uomo possa avere fino a quattro mogli e la donna possa avere solo un marito. Fino a che a chiedermi la grande moschea è chi ritiene che la donna valga un quarto dell'uomo. Io non gliela do. Io non do mezzo centimetro quadrato a chi non riconosce parità di diritti fra uomo e donna. Però dove sono le femministe? Dove sono le femen? Dove sono le indignate? Le girotondine? Le grilline? Di fronte... No, diritti a tutti. Un par de palle. Se tu non rispetti l'essere umano io non ti do mezzo diritto. Perché non è una questione religiosa. È una questione di vivere e convivere civile. Islamofobo. E l'Europa mi arresta. Hanno arrestato gli indipendentisti in Veneto per delle idee per delle cene in trattoria e per una ruspa trasformata in un improbabile caro armato hanno messo in galera e sono andato a trovarla una nonna di 67 anni come terrorista. Cioè liberano gli spacciatori e mettono in galera le nonne. È uno Stato che fa schifo. È una maggioranza che fa schifo. È un Parlamento che fa schifo quello che che fa certe leggi e lo dico a Roma come se fossi a Verona. Come se arrestassero Rinaldi domani come pericoloso terrorista. Avrà tanti difetti ma il terrorismo incarnato in Rinaldi sì, magari. Ha dei pensieri. Beh però se mi intercettassero quando parlo della Fornero mi tengono dentro per vent'anni. Anzi vi chiedo se ancora non l'avete fatto a proposito l'Europa ci chiede il sacrificio andate tutti in comune a firmare e fate firmare se ancora non l'avete fatto per coloro che non sono qua oggi domani attaccarsi al telefono a dieci amici colleghi parenti e conoscenti tutti in comune a firmare il 6 referendum della Lega per cancellare la legge Fornero che ci ha chiesto l'Europa una legge infame per cancellare la legge Merlin per regolamentare e tassare la prostituzione e per reintrodurre il reato di migrazione clandestina perché io sono convinto che clandestino è reato clandestino è reato sono xenofobo no all'altra roba o sei xenofobo o sei populista ormai quando sono arrivati alla fine se esci dall'euro a Roma non trovi più parcheggio se esci dall'euro il Milan non vince più una partita se sei un populista ormai sei un populista e io infatti negli ultimi giorni mi farò la maglietta ormai così almeno crozza le fa tutte sono orgoglioso di essere un populista qua batte un cuore populista perché se dire come la Le Pen all'immigrazione clandestina il lavoro prima i francesi l'agricoltura ce la facciamo noi e vada via i Ciapp Bruxelles e Berlino sono populista viva i populisti preferisco i populisti ai fessi quindi spero che in questa sala sia pieno di populisti e non ci siano dei fessi perché possiamo tornare a lavorare possiamo tornare a lavorare correndo qualche rischio sì uscire dall'euro comporta qualche rischio sì nessuno ha mai detto usciamo dall'euro e diventiamo tutti subito ricchi, belli, simpatici e intelligenti e cambiamo la macchina no però fra la morte certa e qualche rischio fra la nave che affonda e rischiare di saltare sulla scialuppa poi sulla scialuppa ti può andar bene ti può andar male l'acqua è fredda ti piove addosso stiamo stretti siamo in tanti quanti di voi preferiscono stare comodi larghi su una bella poltrona guardando il film sulla nave che affonda e quanti preferiscono ricchiare qualcosa sulla scialuppa visto che la terra è vicina qualunque normo dotato rischia se Renzi preferisce stare bello largo sulla poltrona ci rimanga lui nessuno lo vuole costringere a salire sulla scialuppa anche Grillo oggi ho visto che ormai è diventato federalista indipendentista cosa gli manca gli manca la felpa basta euro gli manca poco però non mi io questi mi impongo e vi chiedo in questi ultimi 13 giorni preziosi di non perdere tempo a occuparsi degli altri quando i giornalisti mi chiedono un commento a Renzi un commento a Berlusconi con i cagnetti non mi interessa non mi interessa propongo le mie idee offro abbiamo 13 giorni in cui il nemico non è Renzi non è Berlusconi non è Grillo il nemico è la rassegnazione il peggior nemico che voi avete in casa sul pianerotto al bar in università è quello del tanto non cambia nulla avete ragione ma tanto non serve a niente e non ce la facciamo e non si può e perché non si può io non ho ancora capito perché non si può io rispetto chi andrà a votare votando altri ma prendendosi almeno la fatica di scegliere e di informarsi rispetto a quelli del boh buh in tu ci stess non cambia niente scusatemi qualche milanesismo però d'altronde no cambia il 25 maggio si fa la storia non si può parlare di sondaggi siamo fuori legge ma tanto siamo tutti fuori legge lo stesso quindi chi se ne frega ho parlato con una famosa e di solito puntuale sondaggista venerdì sera che dà un dato per la Lega in costante crescita però da qui al 25 maggio si decide anche a Roma se avremo un buon risultato o un grande risultato devo dire che da segretario della Lega sono già orgoglioso di esserci vi ricordate quattro mesi fa eravamo morti la Lega non pervenuta per i telegiornali venivamo dopo le previsioni del tempo forse se avanzava se non pioveva c'era spazio due secondi per la Lega al 2% Rob reduci matti abbiamo fatto tanto grazie anche a dei militanti che sono orgoglioso di rappresentare e anche oggi sono in 400 piazze si fanno un mazzo così fategli arrivare un applauso perché gente che lo fa gratis col cuore senza chiedere né avere niente qualcuno dice che rischiamo di essere il quarto partito ne sono orgoglioso ma sono incazzato che ci siano tre sopra voglio dire perché noi abbiamo ragione quindi mi spiace che ne ci siano però prendiamo atto del fatto che hanno più soldi e ormai accendi mi manca la televendita dei materassi e poi Renzi e ovunque però non mi stupirei di vederlo anche nel giorno di chiusura la campagna elettorale ma non mi interessa dicevo quello che fanno e dicono gli altri noi abbiamo delle proposte normali chi vota Lega non vota solo Lega perché chi vota il PD vota Schultz chi vota Berlusconi vota la Merkel chi vota Grillo vota solo lui perché ha già detto che li saranno da soli chi vota Lega vota un gruppo vota Le Pen vota gli austriaci vota gli olandesi vota i fiamminghi vota gli svedesi la grande differenza rispetto al passato dove io ero parlamentare è che noi rompipalle dell'altra Europa fondata sul lavoro sulle patrie sull'agricoltura sulla speranza eravamo in 30 su 750 e tu capisci che combattere da soli è bello però alla lunga si fa fatica 30 su 750 Mario qualche battaglia la vinci però tante battaglie quando alzi la mano in 30 e poi gli altri 700 fanno una roba diversa sto giro non andiamo lì in 30 sto giro andiamo lì in 200 e quindi devono passare sui nostri corpi prima di continuare a massacrare l'agricoltura ma vi pare che ero in Calabria ho fatto questi tre giorni al sud che mi sono serviti politicamente e umanamente ma vi pare che che debbano spiegare come si pesca il tonno in Puglia e non si può pescare il tonno in Puglia ma in Albania sì e quindi noi ci ciucciamo il tonno che pescano 10 km in Puglia di noi e mettiamo in crisi un intero settore e le arance della Sicilia non sono più buone sono meglio le arance del Marocco perché così hanno deciso e quindi bisogna aiutare il Nord Africa fa un culo l'agricoltura siciliana meglio l'agricoltura marocchina e il formaggio nella Malga non si può più fare perché non è sano è fuori norma non è non è a norma europea il formaggio di Malga ma lo fanno i nonni dei nonni dei nonni da secoli lasciagli fare il formaggio nelle Malga come fanno da secoli perché quella è economia è tradizione e torniamo alla roba unica alla roba unica lo stesso formaggio come le patatine di McDonald's cioè che non sanno di niente però sono buone perché ti hanno convinto che quella è la patata mio figlio ogni tanto mi autodenuncio ogni tanto vado da McDonald's con mio figlio ci vanno tutti se no si sentirebbe il bimbo reietto ormai a 10 anni se non vai da McDonald's sei l'ultimo degli sfigati mio figlio pensa che quella sia la patata e quando mangia una patata che sa di patata papà ma che cos'è sta roba e guarda sarebbe la patata no la patata è quella sottile nel pacchettino rosso un po' puzzolente con tanto sale no quella è un'altra roba quella te la vendono come patata ma non è la patata io voglio che mio figlio mangi la patata e la patata la decido io se è patata non a Bruxelles se è storta ricurva col ciuffo mica col ciuffo la patata è patata la banana è banana l'arancia è arancia e se c'è qualcuno a Bruxelles che nel nome delle multinazionali che poi vanno a vendere quella schifezza ai supermercati decide ma gliela infilo in bocca per non essere più volgare quella patata la patata in Italia si coltiva come si coltiva da sempre senza che ci debba essere un funzionario che mi massacra l'agricoltura siciliana il turismo calabrese i mobili della Brianza i brianzoli si sono rimbambiti che non sanno più fare i mobili perché non li vendono c'è un prezzo sbagliato e il tessile della provincia di Como si sono rimbambiti quelli che hanno inventato il tessile o la calza della provincia di Mantova non è più calza hai un prezzo sbagliato ti stanno fottendo pensate che l'Europa voi ha dato e darà 12 miliardi di euro di aiuti alla Turchia che è un'economia che cresce del 4% all'anno l'Europa per provare a fare entrare la Turchia in Europa che poi quelli non ci hanno mica scritto scemo sulla fronte se ne guardano bene all'entrare in Europa gli abbiamo dato 12 miliardi che vanno alle imprese turche che poi fanno prodotti evidentemente che vengono a vendere a Roma a fare concorrenza sleale ai nostri quindi noi con la nostra disoccupazione stiamo aiutando i turchi a farci il mazzo ma è veramente una cosa da fuori di testa c'è in ballo il 25 maggio il lavoro ma il buon senso il buon senso con tutto il rispetto per i turchi per carità di Dio però è così è così come prima i giornalisti continuavano a chiedermi ma perché volete sospendere l'operazione Mare Nostrum ma perché a me sembra una cazzata ma siamo l'unico l'Europa condanna gli aiuti di Stato se noi diamo 2000 lire all'azienda X o all'azienda Y aiuto di Stato se tu aiuti l'azienda che sta chiudendo a Torino a Fiumicino non puoi perché contravieni alle norme europee è un aiuto di Stato e noi stiamo dando degli aiuti di Stato di 300.000 euro al giorno agli scafisti noi stiamo aiutando gli scafisti a fare il loro ormai questi non hanno neanche più il problema di trovare delle navi che più o meno facciano qualche chilometro usano le zatte gli danno una spinta gli mettono il telefono in mano guarda chiama lo 020202 ci sono i pirla in Italia che ti rispondono dove sei ti vengo a prendere stai fermo lì non partire non partire arrivo io fermati sulla spiaggia perché è più comodo per me se non è un casino poi dove ti metto mi arriva stamattina il messaggino che questi richiedenti asilo perché ormai io sono stato al CIE di Ponte Galeria l'altro giorno hanno capito cioè sono i cachet cosa fanno appena entrano io richiedo asilo anche se scappi dalla Norvegia io richiedo asilo perché perché rischio perché se richiedi asilo esci noi ne ospitavamo noi a Cremona alcuni stamattina sono stati arrestati per spaccio perché hanno trovato chili di droga però richiedevano asilo quindi era una droga richiedente asilo anche la droga noi stiamo incentivando l'esodo di potenziali di decine di migliaia di disperati io non voglio veder morire nessuno nessuno ma se devo spendere un euro lo spendo in Africa lo spendo là per fare un ospedale per fare una fabbrica per fare una strada per fare una scuola là là per aiutarli là e non per farmi invadere qua e quindi l'operazione Mare Nostro un qualunque normo dotato che sbarcasse da Marte arriva e dice ma questi sono gli unici poi siamo gli unici cioè tutti facessero la stessa cosa l'operazione Mare Nostrum c'è in Francia in Spagna in Grecia Malta in Germania no è Nostrum era il mare fu Nostrum il fu Mare Nostrum però fa parte fa parte di un progetto nessuno mi toglie questo dubbio del pensiero unico del cambiare popolazione con popolazione lingua con lingua lavoro con lavoro perché quando l'imprenditore diceva Bagnai dove sono i sindacati cioè se la riforma del lavoro è togliere sempre più diritti ai lavoratori la flessibilità è la più grande paraculata della storia di questi decenni la flessibilità se io ho un negozio dove vendo marmellate e non vendo marmellate tu mi puoi regalare una commessa a zero che lavori 7 giorni su 7 24 ore su 24 e che posso pure prendere a schiaffi non l'assumo se non vendo la marmellata non mi serve la commessa senza diritti secondo me è ignobile costringere migliaia di lavoratori a lavorare anche tutte le sante domeniche dell'anno perché quando lo vedi tuo marito quando la vedi tua moglie quando li vedi i tuoi figli non siamo nati per crepare di lavoro sotto pagato punto siamo nati per vivere anche per lavorare ma con un po' di tempo per vivere non è quella l'Europa Milano o la Padania o l'Italia o ditela come volete che voglio lasciare a mio figlio il lavoro è uno strumento per stare bene quando il lavoro è la tua tomba appunto appunto quindi un'Europa fondata sul lavoro sul rispetto sui diritti sulle pensioni cancellando le riforme questo che sono robe che sembrano normali però sono rivoluzionari le dice la Lega meglio le abbiamo dette a Catania e siamo stati applauditi bene abbiamo fatto una serata alla mezzia terme io mai nella vita del segretario della Lega Nord avrei pensato di riempire un teatro da 250 posti alla mezzia terme essendo applaudito è così Napoli è storia a sé perché c'è Genia Carogna e c'è e c'è il tifo e c'è la partita però la cosa che mi ha rincuorato è che dopo quell'assalto incivile sono arrivati centinaia di reinviti a Napoli da persone per bene e ne sono convinto che dicono che Napoli non è solo quello anzi è un'altra roba e quindi non è che la minoranza di cretini a Bolzano a Treviso a Roma a Napoli rappresenta una città io l'altra sera venerdì sera mi confrontavo con un tizio candidato della lista Tsipras professione no global che chiedeva il codice identificativo sul casco dei poliziotti e poi questa è gente che va in piazza col volto coperto con i bastoni con i fumogeni con le bombe carta ma inizia a farti vedere in faccia tu inizia a farmi capire chi sei e se fosse per me io una manifestazione con centinaia di persone che ho visto anche a Roma camuffate con i bastoni quella non è una manifestazione se uno va in piazza con la spranga non manifesta io non faccio partire un corteo fino a che non so chi c'è dietro quel corteo punto basta e gli organizzatori devono metterci i soldi e come noi siamo responsabili di quello che succede qua dentro oggi e se alla fine del tutto Borg impazzisce e inizia a fare i graffiti sui muri c'è qualcuno che paga perché noi abbiamo dato nomi e cognomi non si capisce perché altri invece siano titolati non a manifestare a far casino quelli non sono diritti anche perché spesso e volentieri a fare quel casino col volto coperto e le spranghe non sono i figli degli operai che in ogni caso non dovrebbero manifestare così ma sono i figli di papà con la villa a cortina e col weekend assicurato quindi è comodo fare il casinista quando hai il papà che ti copre le spalle con ricco conto in banca quindi civiltà non violenza pacifismo che però non fa rima con coglioneria quindi noi non vogliamo fare del male a nessuno ma vogliamo tornare a essere tranquilli in casa nostra questo è il principio che mi anima dal segretario della Lega io oggi pomeriggio alle 4 parto in camper da Milano perché in camper perché i soldi che abbiamo quelli sono e quindi non posso fare il giro con i mega però oggi saremo appunto a Milano partiamo dal teatro alla scala come la sinistra si è impossessata anche della cultura non ho capito perché noi abbiamo nominato noi il sindaco di Milano ha nominato un sovrintendente austriaco e anche qua perché non c'è un sovrintendente italiano è più è più bello quello austriaco però che sta ancora lavorando a Salisburgo a proposito di conflitto di interessi questo sta ancora lavorando a Salisburgo e fra le prime cose cosa ha fatto come futuro sovrintendente della scala si è comprato degli allestamenti di quale festival di Salisburgo lui sta è un caso passava per Salisburgo ha detto io cosa rifilo alla scala le robe di Salisburgo e quindi io oggi porto una corona di fiori davanti al teatro alla scala perché c'è certa sinistra che rischia di mettere a repentaglio anche i gioielli che portano la nostra cultura in giro per il mondo e quindi non è roba loro la cultura anzi se dobbiamo scegliere è roba nostra perché siamo più bravi usiamo meglio i congiuntivi perché io ho fatto un confronto con qualcuno del PD che a proposito di lingue straniere ha l'italiano come lingua straniera e quindi anche questo per qualcuno è un problema però ho visto che un'eurodeputata che si candida proprio qua l'onorevole Costa ha detto voi della Lega sono gli immigrati poverini che si prendono le nostre malattie non il contrario quindi ci sono questi è vero è vero infatti ho detto ma allora per tutelarli non facciamoli arrivare perché scome se arrivano si ammalano allora se vogliamo loro bene non facciamoli partire perché poveretti si ammalano e quindi noi vogliamo che tutti stiano bene a casa loro quindi aiutiamoli a stare meglio a casa loro se siamo noi che siamo un pericolo pubblico è così e questa vera votata ci sarà gente che la vota va bene non fa niente è una la lunga marcia di Mao cominciò come una disfatta professor Bagnai cioè questi erano in ritirata clamorosa perché i giapponesi gli stavano facendo un mazzo così poi stufi di farsi fare il mazzo così dai giapponesi si trovarono come oggi può succedere ma scusa perché scappiamo e moriamo forse non è il caso di dirigersi verso nord e di contrattaccare tanto perso per perso euro per euro se so che continuo ad andare a sud muoio fammi provare ad andare verso nord che magari cambia qualcosa partirono che erano 60 o 70 mila ne arrivavano alla fine poche migliaia ma vincenti ma vincenti e quindi hanno cambiato la storia poi non do connotati politici o nel bene o nel male hanno cambiato la storia contrattaccando andando verso nord morendo in tanti lungo quel percorso ma vincendo alla fine la storia la fanno le minoranze organizzate che poi vincono oggi siamo Grillo ha detto che la Lega è un movimentino va bene lascia che il movimentino macini idee macini proposti faccia referendum contro la legge Fornero faccia referendum contro la legge Merlin faccia referendum per bloccare l'immigrazione grandestina porti in Italia il dibattito sull'uscita dall'euro che si può perché erano dei matti all'inizio io ho trovato per caso sul comodino il mio assistente a Bruxelles il libro tramonto dell'euro avevo finito un romanzo di Mauro Corona non avevo più niente da leggere mi ha incuriosito il titolo perché la storia a volte le passa anche tramite le coincidenze e più leggevo quelle pagine più mi incazzavo come una bestia perché anch'io non avevo avevo capito tutto fin da subito no no non sono uno di quei che ha capito tutto fin da subito Cerenzi lui per carità di Dio e lui chiuderà la campagna elettorale attraversando l'Arno ma non a nuoto ma passeggiandoci perché lui perché lui può tutto noi non ci siamo ancora riusciti abbiamo dei difetti siamo degli esseri umani limitati come tutti gli uomini come tutte le donne però non siamo cretini quindi quando ho letto quei libri quando ho letto Rinaldi quando ho incontrato quello che è diventato un amico Claudio Borghi mi sono incazzato perché io sono federalista indipendentista però mi dicevo però se faccio il federalismo che secondo me fa bene a tutti da nord a sud chi sbaglia paga i sindaci di Roma che hanno lasciato un buco di 10 miliardi di euro devono rispondere di fronte ai loro cittadini punto di fronte agli italiani devono ripagare non è possibile non è possibile e c'era qualcuno che poi faceva il festival del cinema il festival del teatro il gran premio di formula 1 i mondiali ma mai ti ha posto le strade ma sistema i marciapiedi prima di fare il gran premio fai la Parigi Dakar non il gran premio di formula 1 voglio dire detto questo secondo me l'autonomia fa bene in Italia manca responsabilità e ognuno deve rispondere di quello che fa però l'emergenza è il lavoro perché avere Roma capitale il Salento libero la Padagna libera il Veneto libero la Lombardia statuto speciale col deserto con le aziende chiuse con i negozi chiusi le uniche attività che aprono a Milano non so qua sono le slot machine i money transfer e i massaggi cinesi le nostre città ecco quando arrivi quando uno stato arriva a fondare il suo futuro sul gioco d'azzardo è finita è finita quando uno stato lucra sui disperati che ci mettono gli ultimi 30 euro della pensione per provare la fortuna e poi magari se ne ammalano e ci muoiono e si portano dietro tutta la famiglia è uno stato ladro e io sono orgoglioso che la Lega dove governa abbia detto stop a tutte le nuove sale gioco d'azzardo perché è una roba incivile ammazzare la gente fregare la gente in quella maniera lì è una roba incivile questi sono i paletti non ho altro da aggiungere perché il giro in camper è lungo e poi sono curioso di sentire anche gli altri voglio solo ringraziare di cuore tutti coloro che stanno lavorando e collaborando e tutti i candidati e le candidate perché non è facile candidarsi a Milano non è facile candidarsi a Treviso non è facile candidarsi a Genova non è facile candidarsi a Roma a Frosinone a Firenze quindi fatevi un applauso perché veramente a Viterbo e vi chiedo di affrontare questi ultimi giorni campagna elettorale appunto da Viterbo passando per Roma col sorriso siamo portatori di idee sane di un virus positivo e quindi più gente contagiate meglio è il 25 maggio o di qua o di là non c'è il forse non c'è il dipende non c'è il vedremo non c'è il secondo appello o di qua o di là poi dal 26 maggio la scommessa per la Lega sarà costruire tutte le opportunità che abbiamo raccolto in questo momento da Catania a Taranto a Battipaglia a Cagliari per capire come essendo Lega Nord e battendosi per l'autonomia per il federalismo per l'indipendenza poi possiamo essere la casa comune di chi vuole essere padrone a casa sua da Treviso passando per Ostia e quindi questa sarà una scommessa politica interessante da approfondire però al 26 fino al 25 anche perché da giornalista Osma Tolaria i giornali e i telegiornali negli ultimi dieci giorni saranno occupati da Renzi Grillo e Berlusconi per i giornali e telegiornali ci saranno Renzi Grillo e Berlusconi e il resto no secondo me sono tre complici dello stesso disastro tutti e tre Renzi Grillo e Berlusconi e quindi se non abbiamo le televisioni abbiamo voi abbiamo chi ci sta seguendo via internet chi ci sta seguendo sulla Rai chi ci sta seguendo a proposito dei Rai ma li avete visti gli spot per l'Europa? ma io non so se nella Romania di Ceausescu erano o Kim Jong non mi ricordo quanto un arriva a e l'Europa e l'Europa pagati da voi perché sono un'iniziativa questa volta l'Europa non c'entra e la Rai che è di tutto di più ci penso io a spiegarti che figata che è l'Europa quindi vabbè del canone Rai parleremo dal 26 dal 26 maggio anche lì aiuti di Stato quindi vai fino al 25 la priorità è dire che cambiare si può si può si può scegliere può cambiare l'euro irreversibile è una palla cosa c'è di irreversibile niente irreversibile si può quindi fino all'ultimo pianerottolo fino alla domenica stessa fuori dalla parrocchia ciascuno di voi che riuscirà a portare un indeciso a essere deciso per il bene dei suoi figli ci fa fare la differenza grazie viva la Lega e viva voi e buona battaglia a tutti